ciao tutti siamo finito guarda guarda che bellezza ti piace guarda la cucitura guarda che bello ciao tutti buona mire qui con questo disegno a rompi cucitura griglia con il rompi in fianco al centrale con questo disegno guarda finito lavoro o lavoro finito guarda che bellezza il paneli la porta tutto perfetto questo è una smart 451 il tapissiere diaz cucitura perfetta senza piega guarda non c'è la piega non c'è nessuna piega e anche qua e non c'è la piega e anche qua e guarda e quanto colore il mondo del colore a tutti ancora facciamo questa smart 451 vedi colore quello colore che c'è questo lo abbiamo lo facciamo ancora a rompi rosso con la cucitura grigio acciaio e smart 451 a rompi tutto a rompi vediamo ancora quella smart questa è la vecchia guarda guarda che brutto 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 eh andiamo avanti ciao tutti il corte della 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 con la piel ok ok entonces vamos a hacerlo de questa forma para che quede más elegante grazie con una postura primero lo primero, vamos a hacer el borde centraliziamo la pieza para el borde podemos usar cualquier hilo cualquier color vamos allá la máquina es perfetta aquí es aquí el detalle en la curva enséñale aquí carlos viste como es carlos suavecito ahí una puntada y lo giramos un poquito una puntada y lo giramos una puntada y lo giramos para que no quede perfecta la curva ya la parte lisa y viste que fácil viste que fácil ahora vamos a recortar ok una pieza a la vez ciao a todos ciao a todos questa es la parte centrale de la smart 451 alla fine lui ha deciso es hacer este color de acción eh sí sí esta es la parte centrale la parte de atrás todavía falta la parte de atrás vamos adelante ciao a todos ancora estamos haciendo el centrale guarda vale a ver a loro questa es la 451 con este diseño e dove está la foto dove la foto con este diseño vale a ver e este diseño que debemos fare iguale senza el logo pero no 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 se debe mettere el logo eh así que questa es la doppia cocitura vale a ver a loro como es como va questa doppia cocitura vale a ver que avanti que no se es esenza cocitura senza doppia guarda guarda questa parte ciao tutti lo enseñare entero ciao ti vediamo a qui tardi che lo tu stas hacien mira lo dañate ai 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 casi casi e tablero que paso como tu eras jefe tu eras que pagas lo daño que reguero tu tienes que disordine que paso que paso que tiene los vasos pero no tiene lo cual es falta la 16 y la 15 y cual es la que falta es la 15 la limita buca la ve este es el cuscota Abbiamo smontato il cuscotto Ciao a tutti Guarda che bello il pannello Ancora montiamo il pannello della portiera Questo lì Questo si hanno montato tutti e due E guarda lì Abbinato con questo Con il sedile Perfetto Ancora montiamo il pannello Questo è della porta Eccolo qua A me piace tantissimo Tantissimo Ciao a tutti Guarda che bello Guarda guarda Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti